salve ragazzi stefano dal grp allora volevo fare questo video per spiegare un pochino come funzionano le nostre indagini le nostre indagini non invasive non invasive nel senso che praticamente noi si va in questi luoghi abbandonati mettiamo che si va in un casale abbandonato fatiscente e lì dentro ci sono delle presenze noi quando si arriva di notte si salutano tutte le presenze che ci sono buona sera siamo gruppo grp siamo venuti in pace senza darvi fastidio se qualcuno di voi vuole darci un contatto vuole avere un contatto con noi o comunque darci una mano nella nostra ricerca nel nostro studio del paranormale siamo parecchio contenti e poi cerchiamo se c'è un contatto di fare qualche domanda e ottenere delle risposte con lo strumento quando si va via si salutano e soprattutto se non hanno voglia di chiacchierare o di avere il contatto ce lo fanno capire che non si va via e le lasciamo in pace quindi le indagini paranormali che facciamo noi sono di tipo non invasivo non è come una seduta spiritica che chiamano per forza obbligatoriamente qualche d'uno è costretto a presentarsi lì involontariamente insomma non si fa le cose per bene bene ragazzi era solo per dirvi questo questo video vi saluto stefano grp ciao buona giornata a tutti